a un popolo di youtube io sono benvenuti qua in un altro fantastico gameplay oggi siamo qui ritornati su v6 visto che siamo arrivati a beh fate l'obiettivo che volevo arrivare 50 mi piace e come promesso è dovuto anche obbligare il povero vauxi conteniamo questo fantastico gioco bentornati su visage quindi sei pronto vauxi? no per niente per niente anzi la seconda parte è brutta perché non ci sono più le luci quindi sarà un grande problema andare avanti e oltre a quella abbiamo anche sentito dei rumori strani quindi sappiamo che il povero vauxi avrà qualche infarto no e niente allora slot salvato 1 madonna ai 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 ok allora c'è già sanità mentale sparata 2000 perfetto a posto allora io direi subito di prenderci le pillole così da non esplodere male dai 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 allora adesso dove dobbiamo andare prendi la macchina fotografica credo che per poter vedere quel mostro lì che forse ti perseguiterà dovrai andare di macchina fotografica oh no no che infarti no qua non c'è niente no eh è giusto abbiamo visto anche l'ultima volta forse dovrei andare fino a di sopra che non so no no sento rumori sento rumori no 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 ok devi andare di sopra corri di sopra corri di sopra magari c'è un po' più luce no 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 figlia di una buona donna Obama Dio Santo è qua è qua lo sento no vai 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 mi fido eh odio è qua E qua ec la sento madonna brutta corri 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 ah ah aii porca di una vai via sparisci Sparisci, mi prendo a calci Sparisci, no, che cazzo vuoi No, vai via, sparisci Basta Ti ho strappato la mandibola Figlia di una buona donna Mi è venuto l'infarto anche a me Un attimo, con calma Allora, come cavolo dobbiamo fare A passare di qua se c'è quella Stronza, come cavolo faccio A passare, la macchina fotografica Ah, ma è rimasta bloccata Ma che cazzo No, 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 no Non si può aprire, no, dai Allora, dobbiamo ricordarci quello che Stava nel primo episodio, il fatto della Della roba panoramale E della sanità mentale, allora Sai questa luce non va bene perché Continua ad aumentarti lo stesso Però non posso più accendere le luci Quindi che senso ha Adesso in ogni caso Mi sa che in ogni caso adesso come adesso È forse naturale che Mi sa che devi seguire Guarda per terra, vedi per terra Ah, da lì Giusto, giusto Non l'avevo notato Non l'avevo notato, giusto Lei però mi ha aumentato la sanità mentale La sanità mentale mi sale appena esco di qua Quindi E ti tocca seguire quel posto Mi sa che forse porta È dove c'era la porta chiusa Che si è chiusa Qua Ok, apri lì Dai, dai, dai No Vai, vai Sparesci Sparesci Bastarda Figlia di una buona donna Vai, schifta Basta Caffa culo Ok, corre, 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 corre Mi si apre Corri, corri Perché attraverso le porte lo stesso Quella puttana Cazzo Che ha indicato dall'altra parte Indicato di là Dove? Lì, lì, lì Qua Guarda, guarda, guarda Sì, 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 sì Indica di sopra Ok, la porta lì, la porta lì, la porta lì Questa lì Questa lì C'è qualcosa? No, guarda, guarda attraverso la fessura La fessura della porta Sento qualcuno giocare Anch'io Ah! No! Fuck! Ok, salva qui, salva qui Salva qui Doviamo riparare tutto Salva, 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 salva Ok, ok 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 Persiamo Sappiamo che stiamo andando avanti Quindi mi sa che dobbiamo entrare in quella stanza Sì Però, cazzo Ansia Vieni qua Brutto Io vado per l'osica perché non l'ho mai fatto nemmeno io sta Sta cosa Demonio Vate dentro, satana Oddio, vedo Vedo qualcosa Cos'è? Oddio, ah, è un cacchio Oh no No Cosa? Senti, io salvo Io No Mi si può salvare Non può salvare Cazzo Oddio, sento passi Sento passi Sento passi No, senti No Girati Ok Ok No No L'ho visto L'ho visto Figlia di una buona madre Stai là Stati buona Non andare avanti Ok, posso accendere la luce? No Non ti azzardare Si è mossa Secondo me si è mossa E non c'è Deve andare di qua E di qua sono venuto Non si dice che hai tutte le interruttori? Aspetta, ma di qua no Non si apre No, la porta è chiusa Non puoi più salvare? Eh 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 Porca di una miseria Qua c'è un tiretto Posso aprirlo? C'è un tubo Non c'è Non c'è un tubo È lì, eh È là È però spento la luce Bastarda Non vedo altre alternative Provò? Ok, è sparita Ok È quel tipologia di infarto Che tipo Oh, guarda Ti di avvicinare al pericolo No E ora si muore Ora si Ora porti via Arriva alla porta Arriva alla porta Arriva alla porta Arriva alla porta No Come? Schiave della stagia Schiave della stagia Oh no, è là La vedo La vedo La vedo No, è qua davanti a me Eccola là E' là Spegni pure le luci La stronza, eh E lo fa apposta No Si avvicina Si avvicina Sparisci Sparisci Vadoi retro satara No, ha spento la luce Figlia di là No, no Spedire la luce Mi serve È qua La chiave Mi serve la chiave Cribio è la chiave Ma pure la chiave Non è che è nelle gabbie Chiave della gabbia È questa Della stanza delle gabbie era Qua vedo sui tiretti Comunque posso interagire Non credo Madonna Madonna Che casino No, con l'ansia di quella là Che sta dietro No Che ansia Che ansia Eccola Oh Chiave 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 E aspetta Aspetta Con calma Che la sento Calma Calma E qua davanti a me Devo sentire i passi Devo sentire i passi Ok Mi prenderò un infarto Però È qua sulla mia sinistra Ok Non mi ha sgamato Vero Non mi ha sgamato Ok Non si apre Spingi dai Spingi Cacchio Oh no Corridoio lungo Non succede qualcosa Me lo sento No No Non succede qualcosa Spendiamo questo tanto No È dietro No Corri Corri Non si rilassi Corri Non posso correre Come si apre Avanti Avanti Dio Dimmi se posso salvare Non posso Non posso salvare Non posso salvare Cavolo La porta La porta La porta La porta Dov'è la porta No Sono sparite Tutte le porte No No Ok vai verso la gabbia Oddio Girati No Bambino di bello Si gira di colpa Ma Che cazzo di problemi hai bambina Si gira di colpo Vuoi vedere È sparita È sparita Cazzo Porca miseria La porta La porta La porta Si apre così Cacchio di bambina Che fa roba strana Eppure sui muri Che cacchio è sta roba Cos'è So peluche Si so peluche So teste di peluche Oddio Che schifo No Oddio Oddio Puoi salvare No Non puoi salvare No Oh no No Oh no L'armadio Che tante Non funziona più Il flash non va Oh merda No Succede qualcosa Me lo sento Oddio Succede qualcosa Vuoi dire Succede qualcosa Oh no Oddio Oddio Cos'è quella roba Cos'è 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 Che cazzo vuoi Vai via Brutto demone Sparisci No La bambina No Vai via Sparisci Ansia Troppa ansia Oh mio dio No Cosa cavolo era No E se è ritornato qua No ancora Interruttori No Oddio Cos'è Ma questa qua non è casa mia Qual bagno era diverso prima Si Salva 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 Si può salvare Si si può salvare Salvo Salvo Qua c'è ancora La fila qua Devo scendere sotto Devo scendere in cantina Deve scendere in cantina Si vanno giù Deve scendere in cantina Sì secondo me si Ok no Questi interruttori portano di nuovo qua Non sembra ci sia nulla Non è che posso rimontarli Eh no Però qua me lo considera come zona buia Oh Dove Che sta Che Che Madonna Madonna Aiutami No ma mi sa che devo caricare Mui mi prende No Qua c'è qualcosa Di qua stanno giocattoli Oh Dove cazzo vado Qua è bloccato Che torna su 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 Sparite demoni Devo andare su Ok dove cavolo bisogna andare Eh Bella domanda Ansia Ma reazione Va qua C'è un altro Mostro che ti insegue Ok qua c'è la luce però Ora c'è un altro cazzo di mostro Madonna Il gioco mi per culo Ma andandomi Raccidimente Prima reazione Ma tua madre No qua c'è Ho sentito qualcuno E cliccava qualcosa No 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 Sembra Ah No Santo Dio Mi è venuto un isparto No no Non ce la faccio No Questo Questo mette ansia Questo gioco Cazzo mette ansia No Cazzo mio Infatti mio cuore Dio 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 No No quella cazzo di macchina fotografica No Mi tremano le cazzo di mani a giocare sto gioco Perché ogni volta che accendo il flash So che mi può apparire qualcosa davanti È ansia Quella che ti mette nel gioco È ansia Aspetta nel bagno Nel bagno Sì Che è cambiato Ho visto qualcos'altro No no Era solo vuoto C'era soltanto lo specchio Ho provato a aprire lo specchio Non c'era nulla E il lavandino Cioè controlla sempre tutto quanto Perché quando qualcosa cambia Succede C'è stato qualcosa Giusto Lavandino No perché mi stavo dicendo fuori C'è qualcosa Hai troppo Ma di qua di un manichino Yes Vecchio ho visto dei manichini C'era un manichino rotto Di sotto Di sotto nel Ok di sotto Nel Senti qua Qua No Quello era uno di sotto Nella Parla voglio distrarmi È di sotto È di sotto In fondo In fondo In fondo In fondo Cioè Nel Non sento rumori giù Deve scendere Deve scendere fino Di sotto Io ci muoio Io ci muoio Ti ricordi dove c'era Tipo Quella Quel telo Con le luce Sono dei vari manichini C'era di sotto Un telo Devi andare ancora più Invece che andare Nella cucina Dove c'era la televisione Con la radio Di merda Livello di Di paranoia E basso No Eh vabbè la radio Non posso seguir A spegne Ma Ok No 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 Non da questa Non da questa Dietro Oh È qui È qui Dove è Dove Di andare verso sinistra Dopo le scale Non andare sempre Deito Gira Ok E di Oscende Di andare A portesta Sotto le scale Sì Ok Sotto le scale Ok Qui 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 Dove c'era la luce Dove c'era la luce Sì Raggiù Che mi ricordo che c'era un manichino Ecco 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 Metti Metti quella cosa Oh Dove Dove Nell'armadio Sinto dall'armadio Nell'armadio Nell'armadio Devi aprire l'armadio Devi andare dove c'era Oddio Beh c'è un manichino Scatta le foto Scatta le foto Un'altra Ah Porca troia Cazzo Porca di una miseria Che infatti Che infatti Dimmi che puoi salvare Ah no Ho fatto il salvataggio automatico Ho fatto il salvataggio automatico Io ti odio Io ti odio Dio santo Devo andare a pisciare adesso Io mi sto cagando sotto Mi sto cagando sotto Allora Perché non mi fa scambiare gli oggetti Muoti Dove vado Su Giù Destra Sinistra Boh Io vado alla parte più illuminata No Non vuole accenderci Come non vuole accenderci Porca troia Oddio Oh no È diventato PT Qua diventa PTSD Porca troia No No Ok Luce Luce Non mi lasciare Cazzo No Qua non c'è Nacciola Non c'è Non c'è Nacciola Ah Cazzo voi Dove sono Eh sono tornato Sono all'inizio Qua è brutto Qua è brutto Qua è brutto No Oh No 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 Non c'è niente Vero Non c'è niente Davvero Non lo so Oddio Cosa No Il panico sto prendendo tasti a casa e sta succedendo roba No Dove andare al pendolo No Il pendolo Mu suona Mu suona Me lo sento Ecco l'ho detto che suonava L'ho detto L'ho detto che suonava io Porca di una puttana No 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 Qua c'è qualcosa C'è qualcosa qua dentro So che non riesco a aprirlo perché non si vede un tubo Perché ci ratti No C'è qualcosa sicuramente No Ok No Non c'è niente C'è qualcosa qua Cos'è E' in un'altra stanza Lo sento No 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 È nato via È nato via Sì Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego No Qua c'è qualcosa qua dietro Lo sento No Le zone così No Le odio No Mi prendi per il culo Non posso salvare No Oddio Oddio Dove c'è caduto Oddio c'è caduto Oddio c'è caduto Oddio c'è caduto Oh mio dio No No Ti prego No ti prego Ti prego Si fa brutta la situazione Si fa brutta Orsetto aiutami Ti prego No C'è qualcosa Dio santo Devo esplorare Ogni stanza Vuoi dire Oh no C'è buia Oh no Cazzo Di armadi Perché Perché ci sono Gli armadi Via Io me ne vado No Non posso toglierlo Fatti Cos'è Cos'era What the fuck Aspetta 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 Prova a andare E torna indietro Torna indietro Sì Nella stanza lì Si Hai controllato tutto Si Guarda il tappeto 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 Oddio Oddio No Ma voi siete malati Come cazzo faccio No Sì Eppure Tutte le paure Di una persona In un videogioco Claustrofobia Buio Demoni magici Che ti attaccano E ti Ti tranciano Cos'è Cosa cavolo è Sto robo C'è qualcosa Vedremo Qualcosa Mi taglia la mano No Che cavolo è Che cacchio è sto robo Ti è imprimuto Ma non è che perché hai L'accendina in mano Ah ok Posso spostarla così Oh cazzo Butta Prova a aprire Si può aprire Yes Yes Ok Oh finalmente Abbiamo capito un pochettino Ok Abbiamo capito un pochettino perché Qualcosa Forse No Allora abbiamo visto Di sotto No no Di sotto Di sotto Di sotto Di sotto Di sopra Dovamo aprire la porta Oh Visto Qualcosa Accendino Ecco da dove abbiamo tolto l'affare Irrata questa porta Stava qua l'affare Ecco Beh donna santa Orca miseria Di qua dove si va Quale scegliamo Ah no Questa 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 Sinistra 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 Ok Ah si può ancora andare più in giù Oh no Che tanto bisogna andare in giù Dove stiamo andando Armadio Armadietto C'è una candela Una chiave 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 Eccola C'è una candela Chiava arrugginita Chiava arrugginita Oh hell no Ah ok qui è dove è andato quell'altro Quindi Forse la porta che era chiusa Si quell'altra Giusto Porta chiusa Si Yes Yes Martello Non si può prendere Non si può prendere Aspetta Non puoi conservare Prova 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 A prenderlo Ah Ok What the fuck What the fuck Forse nel Non puoi appoggiarlo Aspetta Vizio No 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 Abbiamo ammazzato No Sono andato Porca troia Che infarto Dio Ok Dio che infarto So In questo momento Sento Ah ho capito Guarda Cosa Qua Giusto No Procedio Una bambina Di merda Non si può mettere Non si può girarla Non posso Nemmeno lasciarla Eh vabbè Si bugga Non posso lasciarla Vabbè Vieni come Vieni come Trave Ok si bugga Malamente La devo portare Così Ancora la finita No 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 Via Luce Luce Vai Vai apri Oddio Cosa sta qua Dove che andare da quella Dove che andare di qua Sta la luce Io vado dove sta la luce Segui la luce Eh no Però qua non c'è qui Eh no Qua si sale Chi ci andiamo No io direi dove sta la luce rossa Oh Ma ti indica da quella Verso porta Si Sembra quella dove indica Ah Porca Porca di una Che infarto Che infarto Che infarto Un colpo al cuore Sto gioco è un colpo al cuore Dio santo Dio santo Di qua Di qua Di qua No No Le luci rosse Non eseguo più Va Basta Che colpo al cuore Che cazzo Povero cuore Eh A chi lo dici Colpa tua Indy Colpa tua E con No è colpa tua No è colpa tua No scusa Un corno È colpa tua Colpa mia cosa È colpa tua È colpa tua È colpa tua Ok Si sono tornato da casa Si sono tornati da casa Soltaggio no Dimmi che se puoi salvare Salvare Si Puedo salvare Ok salva e finiamo qui Finiamo qui Basta Basta Finiamo dove abbiamo iniziato Tutto qua Basta Basta Ole Prendo le pillole Mi sa che devi seguire i graffi Eh a proposito Della prossima Si Mi sa proprio di si Ok torno al minuto Torno al minuto Basta Uh Che parto Che parto Un parto psicologico Sto gioco Mio dio Madonna Madonna È un parto psicologico Madonna Bene Bene perfetto Stanotte non dormirò Stanotte non andrò Ne girando per casa E ne riuscirò a dormire Sicuramente Vedo la luce rossa Scappi lontano 5 km Esatto Vedo la luce rossa Li tiro il primo oggetto Che trovo e scappo Dio santo Madonna Che infarto È tipo la luce rossa Tanto bisogna che dobbiamo andare lì No 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 È un infarto Quella cavolo di luce rossa Dio santo Rosso è brutto Perché rosso dà di malvagio Rosso dà di merito Allora ragazzi Vi diamo un pochettino È stato divertente questa partita E vi ringrazio un casino Per continuare a seguire questa Fantastica Cosa Se volete Un'altra puntata Non più 50 mi piace Ma le facciamo 100 No Se arriviamo a 100 mi piace Facciamo il prossimo capitolo A 100 mi piace Facciamo la prossima puntata E sarà molto divertente Perché forse Riusciamo a finire in poco E Quindi Outro a te Che dire È stata un'esperienza traumatica A dir poco Da momenti morivo di infarto È stata davvero Molto Fantastica Perché non dormirò stanotte E niente Spero che abbiate Una fantastica giornata Amici Ci si becca Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti